Siamo nello stand del gruppo Fantoni e parliamo con il dottor Paolo Fantoni. Cosa presentate Almade? Il gruppo Fantoni Almade presenta due aree di lavoro, una legata al comfort acustico e una legata alla climatizzazione. Siamo in una test room in cui è facile verificare come il suono permane nello spazio per oltre 4-5 secondi e quando noi semplicemente andiamo ad aggiungerci il nostro pannello top acoustic l'estesso esercizio sonoro dimostra come il suono a questo punto viene smorzato dai nostri pannelli che è rimasto nello spazio per solamente un secondo. Questo è il comfort acustico che presentiamo, la performance aggiuntiva a questa acustica è quella legata al comfort climatico perché dietro questi pannelli sono inseribili delle condotte d'acqua che realizzano il raffrescamento e il riscaldamento degli spazi attraverso il raggiamento il che significa 30% di risparmio energetico ma significano anche miglior benessere ambientale proprio perché non abbiamo più la movimentazione delle polveri, la movimentazione dell'aria all'interno dello spazio. Quindi in realtà avete in mente un nuovo ufficio dove si sta bene fisicamente? Assolutamente, usciamo un po' dalla percezione semplicemente di un design che doveva riguardare l'ergonomia e doveva riguardare l'estetica per riguardare la scatola ufficio nella quale effettivamente andare ad implementare con delle vere funzioni di benessere lo spazio progettato. Questo mi sembra anche molto legato alla vostra storia che da sempre si parla di Blue Industry anche di un'azienda in qualche modo sempre legata al rispetto dell'ambiente, all'ecologia. Sì, la nostra azienda è integrata con l'ambiente tant'è che la sostenibilità aziendale da noi parte dal fatto che utilizziamo legno di riciclo per produrre pannelli, alla sostenibilità nel campo della chimica, della qualità dei collanti e delle attenzioni che rispettiamo nella gestione della produzione dei collanti fino ad arrivare a prodotti che in qualche modo offrono logiche di riciclabilità, offrono logiche di attenzione alla qualità fisica dell'ambiente ufficio, tant'è che nella stessa presentazione qui al Made sono presenti i nuovi livelli di pannelli con gli standard californiani a basso emissione di formaldeide oppure ci gratifichiamo della certificazione FSC che dimostrano come i nostri pannelli sono realizzati attraverso l'utilizzo di risorse forestali a provenienza certificata e sostenibile. Un'ultima domanda riguarda la vostra showroom. Ieri avete inaugurato a Milano un nuovo spazio Fantoni. Come sarà questo nuovo luogo Fantoni a Milano? È un piccolo crogiuolo dove vogliamo far vivere queste esperienze per cui chi avrà modo di andare in via Santa Sofia a Blu Milano potrà proprio fisicamente sperimentare che cosa significa il risparmio energetico, l'irraggiamento del clima, cosa è il fonoassorbimento per cui vogliamo effettivamente far vivere queste esperienze. Oltre a questo è una dimostrazione di come le aziende devono continuare a immaginare di investire, migliorare e progredire in un mercato pur difficile come quello del mobile per ufficio oggi in Italia. Perfetto, grazie. 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 Grazie.